Ciao a tutti, sono Alberto e se state cercando un guru dell'online business o gli Amazon FBA allora potete pure smettere di guardare questo video. La mia idea infatti è questa. Online è pieno di persone che hanno avuto successo e che spiegano le migliori strategie o tecniche per arrivare al punto in cui sono loro. Quello che voglio fare io invece è partire da zero o poco più, ovvero con le mie conoscenze e il mio bagaglio professionale, e mostrare passo passo tutte le attività che servono per creare un business o più business solidi online. Online e non solo magari. Quindi io ho alcuni progetti in testa, altri invece sono appena stati avviati, sono ancora allo stato primordiale. La mia sfida quindi è crescere assieme a voi. Tra questi progetti c'è sicuramente Amazon FBA, o FBA dipende da come lo pronunciate, che per chi non lo sapesse è il sistema logistico di Amazon, ovvero Amazon si fa carico dello stoccaggio e della spedizione dei prodotti. E in questo modo il venditore si può focalizzare sulla cosa più importante, ovvero vendere il prodotto. Mi piace l'idea di Amazon FBA perché si basa su numeri, su dati e non su emozioni o sensazioni. Ovviamente c'è un mondo dietro da studiare, di tecniche, da capire, di software. Io voglio affrontarle tutte quante e mostrare tutte le fasi, dalla ricerca del prodotto, del primo prodotto che venderò, alla ricerca del fornitore, al lancio del prodotto e così via. Insieme a me per iniziare Amazon FBA ci sarà anche un mio amico che ho conosciuto tra i banchi dell'università durante la magistrale in International Management e assieme vogliamo fondere le nostre conoscenze, le nostre esperienze per raggiungere il nostro scopo. Abbiamo fatto il nostro primo incontro questa settimana, la sera, e vi lascio un piccolo video sul lavoro che abbiamo svolto. Oggi, settembre 2018, primo incontro per iniziare un business con Amazon FBA. Ci siamo messi tutta la sera, infatti siamo un po' assonnati. Si scrive dagli occhi. Esatto. Ad ogni modo stiamo lavorando sodo e adesso vi mostriamo com'è. Qui i nostri schemi, i nostri appunti su come partire, qui l'introduzione del Gantt che poi lo abbiamo reso su Excel. Purtroppo abbiamo visto che andiamo lunghi nella parte relativa a import, a export, la spedizione dalla Cina all'Italia ovviamente. I tempi di attesa si allungano scegliendo la via mare, via nave, quindi non riusciremo forse a procedere prima di gennaio. Esatto. Il che potrebbe essere un problema considerando che... Contattare appunto le festività natalizie per avere un super lancio dei prodotti, invece mi sa che passeremo dopo. Oppure l'alternativa? Contattare i fornitori europei. Europei. Che magari facciamo meno margine, ma possiamo testare e sfruttare l'ondata dei regali di Natale. Vediamo. Vedremo, analizzeremo nelle prossime settimane le possibilità, se ci sono fornitori con prodotti a prezzi competitivi. Giusto. Se no andiamo dai miei cari cinesi. Comunque primo step, finire di studiare tutto quanto. Entro fine mese. Alla prossima. Ah, una cosa. Io, come avete capito, non so fare video. Questo è il mio primo video, ma appunto voglio mostrare assieme come si migliora anche questo aspetto, come fare personal brand e perché no, creare una community di sperimentatori e di curiosi con cui mi piacerebbe scambiare idee, opinioni, fare delle live e magari creare anche un gruppo Facebook che ci potrebbe facilitare anche le cose. Nei prossimi video, quindi, voglio spiegare meglio chi sono, cosa ho fatto fino adesso, cosa sto facendo ora e cosa voglio fare in futuro, quali sono i miei progetti che ho in testa e appunto documentare tutte le attività che farò. Quindi, come i grandi youtuber, non mi resta che dire, iscrivetevi.